No E adesso voi potete fare le vostre domande a proposito di tutto quello che volete Ma deve essere corto e conciso. Evitare la lezione. Chi vuole rompere il ghiaccio? Eccolo là. Paramatma. Lui è un rompitore di ghiaccio speciale. Che ce lo siamo portati dalla Svizzera e dall'Ungheria. E lui invita tutti per il mela ungherese quest'estate. Però vai avanti. Gurudeva mi hai dato l'intuizione. Qual è il significato del mela? Sammelam. Si chiama Sammelam. Sankirtan Sammelam. Significa quando le persone si trovano insieme per glorificare il Signore del loro cuore. Significa intensivo e organizzato Sadhu Sangha. So that we can take the most out of it. Di modo che si possa trarre il massimo da tutto ciò. Just like when you take an orange. And you want to make orange juice. Ah l'arancia. E quindi se voi prendete un'arancia e ci fate il succo d'arancia. Then you press the orange so you get every drop. Come quando voi spremete l'arancia in modo da tirare fuori anche l'ultima doccia. That's a mela. Questo è un mela. You get the nectar, the juice out of all the Sadhu. Voi potete il nettare, il succo da tutti questi Sadhu. Because you have to live after, for many months, you have to have some extra nectar store. Perché volete mettere da parte un po' di nettare extra per tutti i mesi che vengono. Next. La prossima domanda. No question? Yes, yes, sure. Allora, prima dico l'italiano. Noi tutti, allora, sappiamo che veniamo da Dio. Ma la nostra relazione con Krishna, con Krishna, la Krishna Lila, è eterna oppure comincia. We all know that we come from God. But our relationship with Krishna, with Radha Krishna, with Krishna Lila, is as a start or is eternal? Don't ask so many questions. Si dice, non mi fare tante domande tutte insieme. I'm not sorry. No, no, no. Don't ask so many questions which already have been thousand times asked and thousand times answered. Non mi fare le solite domande che sono state chieste migliaia di volte e sono state risposte migliaia di volte. I already explained. Te l'ho già spiegato. Te l'ho già spiegato. You cannot understand anything. Te non ci puoi capire niente. And you know something else? E puoi sapere anche qualcos'altro? I also understand nothing. Anche io non ci capisco. So what you want me to answer. E quindi che vuoi di risposta di Dio? I can only repeat what our gurus have said. Io posso solo ripetere quello che hanno detto i nostri gurus. And what my heart tells me. E quello che mi dice il cuore. So God is God and you are Yashoda. Quindi Dio è Dio e io sono Yashoda. E se non ci fosse Dio non ci saresti te. Quindi tu hai una relazione con Dio. Tu sei il suo servitore. Quindi fai servizio. Non fare domande tipo hai bisogno del mio servizio. Se sei Dio non hai bisogno di nessuno. Quindi perché ti devo servire? Lascia perdere. Dice smetti di mettere in discussione le buone intenzioni del creatore. e verso la creazione. Is that ok Ramadhan? It is. Next. Grazie. Prossima domanda. Falbuna. Come on. Give me a question. Allora. Se ci dà un consiglio riguardo le relazioni tra devoti. Perché di solito si sente parlare molto delle relazioni spirituali. Di con certi strada rascendentali. Ma poi da voi ne andiamo a vedere nelle relazioni basilari. Facciamo anche da dottor Sparica. Parcola Blu is asking that if you can give some advice about the relationship between the bodies. Because when we speak about some trascendental things ok. But when there is some basic needs. Or a normal friendship for helping. There is some problem. When you are sitting in an airplane. Quando sei seduto nell'aeroplano. And there is some problem. E ci sono problemi. Big winds. E ci sono venti forti. You can only pray for the good pilot to know what to do. You can only pray for the good pilot to know what to do. You cannot go and say hey let me fly this plane. Dice non è che puoi andare lì oh senti fammi guidare st'aereo. I don't know how to do it but I had a computer game for pilot. Dice non so come fare però ho giocato tanto col giochino del simulatore di uomo. Non è possibile. No questa cosa non è possibile. No questa cosa non è possibile. So we have a saying in South America. Quindi in Sud America abbiamo un detto che dice. Non manda capitano non manda marinero. Se non ti soldi al capitano ma è inutile che lo mandi al marinero. Per tenere viva una famiglia spirituale una comunità spirituale. Qualcuno deve avere l'ultima parola. Qualcuno deve essere uno che fa smettere la discussione. E' come quando i bambini litigano. Arriva papà. E dice smettetela subito. Si papà. Si papà. E quindi questo uno così è necessario. E se non vi piace il Presidente del Tempio. Allora andate da qualche altra parte. Oppure aprite un altro Tempio. In Bogotà Colombia. A Bogotà in Colombia. Io stesso. La missione Brinda. Abbiamo 25 Tempili nella stessa città. Perché ci sono tanti eri. Quindi averne solo uno, due o tre non è possibile. Ma abbiamo 25 e tutti vanno bene. Però ne abbiamo 25 e tutti vanno bene. Quindi facciamo in modo che tutti abbiano la loro libertà. Mahatma Gandhi disse qualcosa agli inglesi. E gli disse fuori di qua. Quindi è il momento che noi governiamo. I british dissero. I british dissero. You make too many mistakes. Voi farete un sacco di errori. Look here this mistake in this mistake. se guardate qui avete fatto uno sbaglio e Malmah Gandhi gli disse noi vogliamo avere il diritto di fare i nostri errori fate facci imparare dai nostri errori quindi è un po' così e tu un uomo anche tu puoi fare degli errori tutti per imparare a nuotare bisogna essere in acqua se non ci fosse l'acqua nessuno imparerebbe a nuotare però ovviamente i sadhus non sono scechi se loro vedono qualche problema loro ti prendono così ho visto qualcosa bravoino ho visto qualcosa che proprio non va proprio tanto bene e se non vuole ascoltare puoi parlare con qualcun altro che lui ama però è comunque una questione d'amore non è una questione di gerarchia non è una questione di gerarchia non è una questione di politica è una questione di cuore perché ognuno ha diritto e necessità di dare ad altri quello che sente che debba essere dato la coscienza di Krishna è per la libertà religiosa è la religione della libertà è molto differente ma allo stesso tempo però allo stesso tempo è necessario un po' di organizzazione è come nella musica qualcuno deve essere il leader della band però ognuno poi può contribuire però alla fine del concerto però in ogni caso tutti nel concerto devono seguire il leader della band anche se a qualcuno non piace allora fatti un altro complesso fa un altro gruppo Prabhupada era un grande leader lui ha provato a lavorare in un'altra organizzazione ci ha provato ma la sua visione però la sua visione non poteva essere compresa nella visione di quell'organizzazione perché la sua visione era più grande di tutte le organizzazioni messe insieme hai capito? ok, next question quindi viene la prossima domanda allora Maragio parlava della questione del mondo da amare di una società che aspetta il nostro amore che è pronta a reciprocare perché è un sentimento di natura e che è anche capace di amare a sua volta diciamo che c'è questa possibilità là dentro e là vicino e in questo rapporto c'è però uno zoccolo duro ma in questo tipo di relazione in questo tipo di rapporto ci sono delle personalità che sono diciamo demoniache e sarebbero quelle lì che in ultima notizia vogliono produrre uomini da un genoma sintetico sì, ma ci sono persone che sono demoniache e la ultima notizia è che vogliono produrre umani per un genoma sintetico e quindi sì sì magari dovremmo trainare i nuovi umani per chanare Krishna sì bisogna che bisognerà che e noi insegniamo a questi nuovi uomini genomici di però è una stupidaggine tutto quello che possono fare sono robot perché questi non avranno nessuna voce quindi non freghiamoci quindi nel mondo della scienza devono fare così perché se non escono fuori con qualche idea nuova non prendono i soldi però non saranno mai capaci di fornire vere risposte per questo mondo e in ogni caso la scienza può essere molto pericolosa e hanno fatto un sacco di cose in questo mondo che in definitiva lo contaminano quindi noi bisogna fare semmai la domanda opposta dice come possiamo tornare indietro come possiamo dare un buon esempio nel modo tradizionale però io ti do la mia interpretazione personale anche se non mi piace io penso Brumarage pensa che tutte le stupidaggine di questo mondo sono necessarie per darci una svegliata noi siamo lenti siamo così egoisti quindi ci vuole Dio che ci dia una scrollata come è stata l'ultima proposta a Bruxelles che mi ho parlato ieri di mettere sotto controllo i sementi per fare in modo per fare in modo che sia illegale che te prendi i semi dall'ultimo raccolto di ripianti e anche perché sia criminale per dare i tuoi propri semi a un tuo vicino grazie ora finalmente mi avete svegliato io prima sognavo prima la preoccupazione che avevo io era sulla coppa del mondo di calcio o che sia presidente quello o che sia presidente quell'altro ma noi dobbiamo guardare con molta attenzione e a questo punto posso facilmente dire che un Vaishnava è anche un attivista per proteggere la sua madre e la nostra madre numero uno è madre terra e anche questo va molto buono perché in questo argomento molte persone possono venire oggi i Guru Maharaj erano le cascate delle marmole e c'era lì seduta una giovane coppia della Svizzera e io gli ho chiesto siete vegetariani? e hanno detto abbastanza e gli ho chiesto che lavoro fai? sto studiando ingegneria della protezione dell'ambiente e gli ho detto ma come sei un ambientalista e non sei vegetariano? e insomma lì un po' si è avvergognato e gli ho detto un po' anche ancora di più lo sai che quando mangi carne tu porti via il da mangiare a nove persone ti porti via il cibo a gente che soffre la fame questo è un crimine quindi tutto quello che succede nella industria moderna del cibo è criminale e la sua unica risposta è stata e l'unica risposta possibile è diventa vegetariano come ha detto Prabhupada alla fine della conversazione è diventato mio intimo amico e verrà in Sud America a venire in un nostro villaggio ecologico e fare un corso di perma tuttavia ma sono andato fuori dal mio stile ho chiesto una cosa a un totale straniero cosa mangi dice uno normale ma avrebbe detto ma anche di che te ne frega ma bisogna in qualche maniera inizare la conversazione e questo è quello che ci ha detto di farci la Prabhupada lui ci ha messo fuori nel mondo anche con questo aspetto un po' esotico e gli dicono ma te chi sei? sono tuo fratello ma mio fratello si veste così sì anche te ti puoi vestire così quindi in definitiva Prabhupada ci ha dato tutta l'ispirazione possibile per propagare la coscienza di Cristo e la questione di madre terra la questione del cibo è una questione basilaria